Cari spettatori, prima di immergerci in questa narrazione, vi invitiamo a premere il tasto iscriviti e a lasciare un mi piace per rimanere sempre aggiornato sulle nostre future pubblicazioni. Grazie. Oggi, con grande pesantezza nel cuore, vi portiamo una notizia che ha scosso profondamente la nostra comunità. Il tragico destino di Giulia Cecchettin, una giovane donna la cui vita è stata brutalmente strappata via dall'ex fidanzato, Filippo Turetta. La notizia del suo terribile omicidio ha lasciato tutti noi in uno stato di dolore e sgomento. Filippo Turetta è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica, dopo una fuga che ha tenuto in ansia la comunità per ben sette giorni. Questo atto orribile ci ricorda dolorosamente che la violenza contro le donne è una piaga ancora troppo presente nella nostra società. Noi siamo tutti Giulia, un grido che riecheggia tra la gente, sottolineando l'urgenza di un cambiamento nel nostro approccio alla violenza di genere. La ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, intervenendo al meeting di Forza Italia a Taormina, ha sottolineato l'importanza dell'educazione per combattere la violenza sulle donne. Secondo lei, non è sufficiente un approccio puramente punitivo, servirebbe piuttosto un rafforzamento della prevenzione e dell'educazione per cambiare l'atteggiamento verso le donne. Ma la storia di Giulia non è solo una tragica fine. Giulia, nella sua breve vita, aveva già sperimentato l'enorme dolore causato dalla perdita della madre. E ora, in un gesto di riconoscimento postumo, riceverà la laurea che le sarebbe stata conferita giovedì scorso. Giulia non riceverà solo una laurea. Riceverà la laurea in ingegneria che era già sua. Mancava solo la formalità della discussione della tesi. Giulia era già una dottoressa a tutti gli effetti. La ministra Bernini ha annunciato questo gesto simbolico, un riconoscimento dell'impegno e della dedizione di Giulia, nonostante le avversità della vita. Questo tragico evento ci ricorda quanto sia prezioso e fragile il diritto di ogni individuo di vivere e amare liberamente, senza paura. E ora, cari spettatori, vi chiediamo cosa ne pensate di questa incredibile notizia? Vi preghiamo di condividere i vostri pensieri e sentimenti scrivendo un commento qui sotto. La vostra voce è importante in questa conversazione continua sulla lotta contro la violenza sulle donne. Grazie per aver ascoltato. A presto.